Mai, credo che oggi siamo stati al contrario di quello che è successo in gara 1, siamo stati molto bravi a soffrire e ad approfittare di qualche loro sbavatura. Per fortuna hanno avuto qualche sbavatura, questo ci ha permesso di rimanere in gara e i ragazzi sono stati veramente molto molto bravi, rimontare dopo un primo set così, avere la pazienza e la forza mentale di stare in gara di accettare che loro in determinate parti del gioco ci fossero superiori, sono stati veramente veramente bravi per tutto un campo molto difficile, contro una squadra molto forte ragazzi, FF7, Barotto, Tio, eccetera, è tosta però questi sono i play-off, il bello del campionato è questo, sono tutte gare toste, tiratissime, sarà uguale lunedì in gara 3 e via, intanto è stato importante arrivare a gara 3 ecco. Da oggi ci portiamo il fatto che sappiamo soffrire, che siamo una squadra che sa soffrire, che sappiamo fare delle cose molto bene e ci servirà assolutamente non dimenticarci lunedì perché lunedì ci rimetteranno sotto, giocheranno di nuovo forte sarà di nuovo un'altra battaglia dove loro andranno a fuoco e dovremo ricordarci di quello che è successo oggi non tanto come gioco perché è un'altra partita ma di quello che noi sappiamo fare innanzitutto e poi è chiaro che ci siamo noi, ci sono loro in campo e ne vince solo una delle due anche se tutte e due meritano però penso che oggi usciamo con la consapevolezza che delle cose che abbiamo fatto durante tutto l'anno non sono state un caso grazie a tutti 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 grazie a tutti